La prima cosa che viene da pensare ascoltando le voci riecheggiare nel cimitero è chissà se loro possono sentirla questa musica, ma se così non fosse, se ai nostri cari che non ci sono più è concessa una pace senza colonna sonora, a noi che restiamo piace regalare loro questa calda carezza vocale. È una bella idea quella del comune di Pescara, un'idea che ci permette di stare ancora insieme nella musica. Qui siamo al cimitero di Colle Madonna dove si è esibito il coro dell'Accademia Alma Vox di Roma diretto dal maestro abruzzese Alberto De Santis. È il coro giovanile formato da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni d'età e quasi tutti hanno fatto un percorso prima. Molti provengono anche dal coro di voci bianche del teatro dell'opera e lì anche da piccolini sono stati abituati a fare almeno due prove settimanali. Abbiamo la fortuna di avere una scuola di canto corale che ci permette di fare procedere con lo studio della musica proprio seguendo un'alfabetizzazione musicale. Quindi i ragazzi imparano sin da piccoli a leggere con un metodo didattico apposta adatto ad un gruppo che è quello corale, quindi che arrivi un po' a tutti i ragazzi. L'idea è nata proprio per omaggiare i nostri cari defunti, per creare dei momenti di intimità anche, dei momenti belli e suggestivi e quindi abbiamo pensato di ricorrere insomma alla formula che già è comunque collaudata nel nord Europa. Qui da noi stiamo iniziando a far comprendere insomma l'importanza di questi momenti utili per il corpo e per l'anima. Vivo del cielo, signori delle scelte, il nostro amico hai chiesto alla montagna. Sabato 30 toccherà invece al coro diretto dal maestro Veleno. Il prossimo coro sarà il coro dell'Accademia di Pescara. Bisogna in qualche modo lasciare che il luogo del silenzio e della memoria possa essere il giusto palcoscenico accogliente della musica congeniale e collimante per le atmosfere, le suggestioni, le riflessioni, le meditazioni che il luogo stesso suscita. E quindi sicuramente il repertorio corale sacro, di musica sacra è quello più giusto, più centrato, più rispettoso e celebrativo del luogo che appunto diventa poi il teatro naturale dei cori che si esibiscono. Diciamo che è stata una scelta in qualche modo anche condivisa, per certi versi imposta dalle condizioni di rispetto che il luogo merita. E c'è addirittura un brano che è diventato quasi la sigla, per usare un termine leggero, la colonna sonora, il leitmotiv di questa piccola rassegna, che è un brano scritto da Giuseppe De Marzi, il Signore delle Cime, che tutti i cori conoscono. È una sorta di brano corale popolare che tocca direttamente l'animo dell'ascoltatore ma anche degli esecutori stessi, che appunto in quanto canto per eccellenza della commemorazione dell'amico defunto è possibilmente volato in cielo e diventato il brano comune a tutti e quattro i concerti. Lascialo andare per le tue montagne Grazie a tutti i nostri spettatori